Mancano le dosi, le vaccinazioni si fermano temporaneamente, riprenderanno a pieno ritmo in provincia di Avellino soltanto la prossima settimana. Non ci sono grandi timori sull'arrivo delle dosi attese tra domenica e lunedì. Si conferma però che senza massicce consegne non potrà decollare la campagna di vaccinazione di massa. Nell'elenco delle priorità restano le case di cura per anziani. Solo le RSA, infatti, convenzionate col servizio pubblico, hanno ricevuto le vaccinazioni. Attendono almeno altre 500 persone che gravitano nell'orbita delle case di riposo e di cura per le persone più anziane. Poi sarà la volta degli ordini professionali, medici non ancora vaccinati, farmacisti, biologi e laboratori diagnostici. Il consigliere per la sanità del governatore De Luca Enrico Coscioni dichiara al Corriere del Mezzogiorno che entro fine marzo gli ultraottantenni campani riceveranno la prima dose di vaccino. L'auspicio è che i tempi possano essere bruciati con l'arrivo e quindi l'utilizzo di altre tipologie di vaccini e atteso, quello di Moderna, che non necessita di una catena del freddo a meno 80 gradi e la cui conservazione ha una durata maggiore dai 20 ai 30 giorni. La curva dei contagi in aumento, le condizioni meteo e la riapertura delle scuole con il rischio focolai saranno tutti fattori che potranno incidere negativamente nella velocità delle operazioni. Così come l'utilizzo dei medici di base per moltiplicare le vaccinazioni sarà invece un fattore positivo, il vero nodo resta dunque l'arrivo in tempo utile di un numero massiccio di fiale.